Giro in bici da corsa da Numana, poi Recanati, Osimo, Castelfidardo. 17 maggio 2024. In questo primo video vedremo il tratto dal Towns di Numana fino a Porto Recanati, mentre nel riquadro in alto a destra potete vedere lo sviluppo di tutto il giro. Riprese con GoPro Hero 11 in 4K 60fps Hyperview. Sono sempre sulla mia Bianchi Ultra XR4. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Se volete, potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo potete seguirmi anche su Instagram dove trovate foto per il... Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Qui è sempre 1869 la benzina. Mentre vicino al Decatron era 1819. Giusto per avere dei riferimenti. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro nero che è un po' più pesantino. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro nero che è un po' più pesantino. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro nero che è un po' più pesantino. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro nero che è un po' più pesante. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro nero che è un po' più pesante. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro nero che è un po' più pesante. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro nero. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro nero. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro nero. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro nero. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro nero. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro nero. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro nero. Sì, è che oggi stava meglio con l'altro nero. Ponte sul mutone, se ci finisce domani inizia a portare canale, come territorio. Ponte sul mutone, si finisce domani, se finisce domani, on porta scurita, si con il ho indipinto tutti questi stabilimenti belli Mare decisamente più calmi, rispetto ai pegiorni scorsi da un po' di onda lunga, ma meno impetuosa vento contrario Mare decisamente più calmi, rispetto a un po' di onda lunga, 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 rispetto ai pegiorni sono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io ho il radar, quindi so se ho delle alco dietro o no, oltre agli specchietti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui non ci sia più quel mega negozio di bici. Questo video è finito. Metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati. Guarda altri video, ce ne sono di vari generi. I video di questo giro continuano. Ciao, alla prossima!